Una a due volumi compatta a quattro porte ma non solo, ormai è sempre più difficile definire la categoria di appartenenza di un'auto dal punto di vista stilistico e non fa eccezione la nuova piccola di casa volvola V40 che innesta su forme da berlina piacevoli elementi coupé e station e lo si vede molto bene nella vista laterale. Il risultato è una linea originale e affascinante che confeziona una vettura che ha tutte le carte in regola e anche qualcosa in più lo vedremo tra pochissimo per andare a fare molto bene in un segmento affollato dove incontrerà concorrenti come la BMW Serie 1, la nuovissima classe A e anche la nostra Alfa Romeo Giulietta. Se esternamente piace dunque molto la coda con la sua originalità che non mancherà di fare strage di cuori all'interno l'arredamento è come sempre di gran classe e anche quanto a spazio non ci si può lamentare solo i più alti posizionandosi sulla seconda fila sfioreranno con la testa il tetto. La V40 aggiorna il manifesto di Volvo in materia di sicurezza lo sapete tutti quanti come il marchio si sia sempre mosso con grande agio e preveggenza all'interno di questo argomento ma la vera novità è che se prima l'attenzione veniva dedicata esclusivamente all'incolumità del pilota e dei trasportati oggi la medesima cura viene stesa anche ai pedoni a quei terzi che possono eventualmente malauguratamente rimanere coinvolti in un incidente con la vettura. Debutta infatti proprio su questa vettura in anteprima mondiale l'airbag per i pedoni un cuscino che si gonfia fuoriuscendo dalla fessura tra il cofano e il parabrezza andando così a proteggere la testa del malcapitato riducendo la gravità dell'impatto Oltre a questo dispositivo la V40 monta tutte le altre dotazioni che il marchio ha messo a punto in tema di sicurezza in questi ultimi anni Si va dalla frenata automatica in caso di pericolo di scontro imminente e ora funziona fino ai 50 orari al sistema di mantenimento della carreggiata fino al segnale che avverte chi sta uscendo in retromarcia da un parcheggio dell'avvicinarsi del traffico in attraversamento Per la guida abbiamo scelto la motorizzazione che quasi sicuramente sarà la più venduta in Italia il turbodiesel 1.6 da 115 cavalli Nonostante la cavalleria piuttosto limitata esistono unità ben più performanti la nostra V40 si rivela davvero divertente da guidare Il merito è di un assetto piatto ben impostato che permette di affrontare le curve anche a velocità sostenuta con una certa sicurezza e rapidità di uno sterzo che contrasta molto bene e di un ottimo cambio manuale a 6 marchi La vettura nazionale qual è? La V40 non trascura l'argomento consumi ed emissioni Si percorrono 100 km con 3,6 litri di gasolio mentre le emissioni di CO2 si fermano a 94 grammi al chilometro In fase di lancio Volvo propone un'edizione speciale riservata esclusivamente al mercato italiano Si chiama Nova Edition e abbassa rispetto alle versioni, chiamiamole ordinarie, il prezzo di ingresso alla gamma Si parte da 23.450 euro per le Nova Edition Mentre invece per quanto riguarda la motorizzazione che abbiamo provato oggi che vi ricordo è il 1.6 turbodiesel da 115 cavalli si parte da 26.300 euro Verranno presentate invece a Parigi e arriveranno tra qualche mese le versioni Art Design Oltre ad una caratterizzazione estetica di impronta chiaramente sportiva presentano un telaio molto più rigido e ribassato di 10 mm rispetto al telaio della versione che abbiamo provato oggi, il telaio Dynamic Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti